Papà, posso farti una domanda? Certo. Ma come si fa? Ah, come si fa? È la cosa più naturale del mondo. E così da sempre ci vuole molta cura e poi non è che tutti lo sanno fare. Ma si può fare dappertutto? No, solo in un territorio preciso. Vai, così capisci meglio. Quando si parla di parmigiano reggiano, si parla d'amore, per la nostra terra, per una produzione unica e senza conservanti. Da sempre. Parmigiano reggiano, quello vero, è uno solo.